Pazienza per altri due mesi, poi addio alle segnalettiche di cantiere lungo il circondario di Lugo. Il progetto, da 600.000 euro, divisi a metà tra comune e regione, ha visto fiorire quattro rotonde e scomparire l'ultimo semaforo lungo i viali che circondano il centro storico. Le rotatorie ancora da completare, ma siamo nella fase finale, sono quelle di via Foro Boario, Brignani, quella di fronte al Globo, la rotatoria del circondario Bertazzoli all'incrocio, anche quello in fase di realizzazione e di ultimazione, mentre invece quello più complesso dal punto di vista della sua realizzabilità, che è quello del circondario Ponente via Paurosa, a servizio sostanzialmente di tutto il quartiere di Lugo Ovest, si è avviato con l'abbattimento di una casa che ne impediva la sua estensione, che è di circa 24 metri di diametro e che si prevede, venga realizzato nel giro di un paio di mesi. Il bilancio 2016 prevede anche, parla anche di un sottopasso per Lugo Ovest. Ci sono due opzioni, la prima è quella di un sottopasso pedonale, la seconda di un carrabile di un carrabile a senso unico alternato. Sul costo dell'opera e sulla compartecipazione anche dei privati si giocherà la prevalenza dell'uno o dell'altro progetto. Noi siamo comunque molto determinati sulla sua realizzazione in tempi brevi.